Come al solito insomma fanno da mascotte per quanto riguarda l'uscita delle varie categorie Carlotta, Giulia, Giussiana e Valerie Avrete la possibilità di osservare dei bijoux davvero molto fantasiosi questa sera all'interno di Maschito Bijoux Uscite sportive, la prima apre le danze, un'uscita di una collana di stoffa viola, che è una collana di stoffa multicolor Ringraziamo anche chi indossa questi bijoux Adesso invece è il momento di una collana con chips bianche e agata blu Badia Badia Tornati Un palazzo All'inforza L'amore Ecco, invitiamo la piazza a fare un applauso, hanno sfilato prima la collana di stoffa viola e adesso hanno terminato la collana di stoffa multicolor. Adesso, come dicevo poc'anzi, è il momento della collana con chips bianche e agata blu. Grazie a tutti. E' il momento della categoria delle sportive, che sono sportive anche nello sfilare. Come vedete, invitiamo a fare un grande applauso a queste ragazze che stanno sfilando. Intanto, ancora, abbiamo una collana di palline in acciaio di agata blu con ciondolo e poi ancora una collana con catena e sfere in vetro multicolor lunga. Grazie a tutti. Un forte applauso anche per queste ragazze. Intanto, vediamo sfilare una collana in tessuto verde con fiore di vetro multicolor. L'altra invece è una collana in tessuto verde con pietre colorate. Grazie a tutti. Queste altre due ragazze, intanto è il momento di una collana in catena bronzo con vendente verde e poi ancora collana in catena in argento. e ancora una collana in bracciale beige marrone in resina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.